Oggi parliamo di paese reale e di mondo reale. A Gaza e persino nella Cisgiordania, dove peraltro Hamas non c'è, ricordiamolo, continuano le tensioni e gli scontri con Israele, con gli Stati Uniti pronti a fornire il loro supporto all'invasione di terra. Nel frattempo nel nostro paese, tra i tanti problemi, c'è uno legato alla ludopatia, che però si perde dietro il contesto in cui è inserito, cioè quello calcistico, e in generale c'è il solito scarto tra il paese raccontato patinato e quello vero, che è estremamente differente. Partiamo da lì. Partiamo da lui. Oggi tutti quanti parlano di Andrea Gianbruno, giornalista di Mediaset e compagno della Premier Meloni, che si è recentemente distinto per alcune uscinte infelici. Lo ricordiamo nei commenti alle violenze di Caivano, quando aveva parlato delle ragazze che se la sera escono a divertirsi è più probabile trovino il lupo. Lo ricordiamo quando aveva definito le migrazioni umane una transumanza, termine un po' infeliciotto diciamo, e in generale è spesso oggetto di attacchi per le sue gaff, soprattutto da sinistra. Ieri però una trasmissione che propriamente di sinistra non è, cioè striscia, ha diffuso alcuni spezzoni di fuori onda, e l'ho fatto alla maniera di striscia ovviamente, quindi ci sono gli effetti sonori che andavano di modo a vent'anni fa. Quelli che se qualcuno cade ci metti le risate, se qualcuno tocca qualcosa ci metti il popi popi, quelle robe lì. E Gianbruno, di nuovo compagno della Premier, ed è per questo che la notizia è molto ripresa, viene registrato mentre fa un po' lo spaccone, no? Scherza con dei colleghi fuori dall'inquadratura, ha delle gestualità non esattamente consone nell'ambiente in cui si trova, né al fatto che alle sue spalle ci siano ancora le immagini di un incidente stradale del quale probabilmente si parlava prima della pubblicità, e soprattutto fa un po' lo splendido con la collega, si direbbe qui. Fa un po', non so qual è la parola, il cascamorto, fa un po' il provolo, non so come si dica, qua si dice lo splendido, abbiamo capito di cosa sto parlando. Si atteggia un pochino, va avanti e indietro, le fa dei complimenti un po' a caso, pat pat con la manina sulla testa. Sono delle scenette, cose che dentro la bolla, quella che ci separa dal paese reale, sono ovviamente un po' sopra le righe, diciamo così. Potremmo parlare molto delle dinamiche che si vedono in quel video, al netto che non conosciamo i rapporti tra queste persone, quindi mi tutelo dicendo sta frase qui, lo dico per il legale di Mediaset in ascolto. Il punto è che fuori dalla bolla, nel paese reale appunto, le cose stanno in modo un po' diverso. Al netto del fatto che ovviamente il tono e le cose che si dicono fuori onda sono sempre diverse da quelle che si dicono in onda, e noi stessi lo facciamo perché conosciamo il contesto in cui certe cose accadono, un contesto che in qualche modo è stato tradito da qualcuno nella redazione del programma di Gian Bruno che ha fatto uscire quelle cose, credo che vedere le persone che ritengono di parlare senza essere ascoltate da un grande pubblico sia utile per capire cosa effettivamente pensi il paese. È un po' la ragione per cui trasmissioni come la zanzara di Giuseppe Cruciani vanno così forte, perché si sentono dire cose che magari molti pensano, ma in certi ambienti non passano. Non che siano giuste, perché non è che ci faccia una bellissima figura il compagno della Meloni in queste clip, ma sono utili. Vi faccio un altro esempio, così è chiarissimo quello che sto dicendo. Gente di Mediaset, io solo riporto, io sono un reporter, io riporto, ma ambasciatore e reporter non portano pena. Lui è Fabiano Barbizan, consigliere regionale del Veneto, appartenente alla Lega. Anche di lui oggi si parla tanto, perché in una trasmissione tv, stavolta microfoni accesi, dice una cosa, cioè che gli africani in fuga non abbiano davvero fame, sono più gonfi di me, dice, lo dice, letteralmente dice proprio così, lo dice un po' in Veneto, però sono più gonfi di me, ma soprattutto, e ve lo faccio ascoltare tra un istante, che le donne gradiscano la loro immigrazione perché sono più dotati a livello genitale. Sì, fino a ieri l'Occidente è sempre andato a depredare le ricchezze, lasciando il popolo alla fame. Questo è un problema, una responsabilità che abbiamo. Ora, Barbizan qui era conscio di essere registrato, ma su Rete Veneta, una tv locale, in un programma peraltro il cui sottotitolo di puntata era Quelli che sbarcano e poi uccidono, quindi si va l'altissimo. Ma di nuovo, prendi quella roba lì, che evidentemente è normale in un certo contesto, la trasporti fuori da quel contesto, improvvisamente che succede? Che con la gente che guarda da fuori, quell'atteggiamento diventa intollerabile, esacrabile, specchio di un paese reale che non vogliamo riconoscere. Barbizan è stato espulso dalla Lega, comunque, ma in quanti nel paese reale pensano quello che ha detto? E quanti sul posto di lavoro si comportano esattamente come si comporta Gian Bruno, nonostante tutto ciò che ci diciamo, anche nelle trasmissioni tv, sui comportamenti accettabili, corretti e professionali? Quanti? L'esplosione dell'ospedale a Gaza è coincisa con quello che è stato uno degli incontri diplomatici più importanti e significativi dall'inizio del conflitto tra Hamas e Israele, vale a dire il viaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden proprio in Israele, accolto dal primo ministro israeliano Netanyahu all'aeroporto di Tel Aviv, in modo peraltro caloroso come si trattasse di amici di vecchia data, visita che è culminata ovviamente con una sorta di conferenza stampa tra i due, come sempre accade. Quanto avvenuto e le successive tensioni che abbiamo raccontato ieri hanno però modificato i piani del viaggio diplomatico di Biden, dato che inizialmente la visita del presidente statunitense era stata programmata su più giorni, non solo in Israele ma anche in altri paesi del Medio Oriente, cioè Giordania, Egitto e anche con le autorità palestinesi. Incontri che però sono o stati annullati o avvenuti telefonicamente e la visita di Biden è durata appena otto ore prima che questo tornasse negli Stati Uniti. Otto ore in cui però alcune cose sono state effettivamente messe sul tavolo. Ne parliamo. Oltre alle dichiarazioni di vicinanza e supporto allo Stato di Israele, gli Stati Uniti hanno provato anche a concentrare i loro sforzi sulla crisi umanitaria che sta investendo l'altro protagonista del conflitto, cioè Gaza. Biden infatti ha discusso telefonicamente con il presidente egiziano Abdul Fatal Sisi. E a seguito di questo colloquio l'Egitto ha accettato di aprire il valico di Rafa, questo corridoio, sito nel sud ovest del paese, che collega l'Egitto, nello specifico la regione del Sinai, proprio alla striscia di Gaza, con l'obiettivo di portare tutti gli aiuti umanitari necessari per la popolazione, che da giorni necessita di tutto, dal cibo all'acqua, ad ancora medicine, luce carburante, con l'apertura del valico prevista per la giornata di domani, venerdì 20. Si tratta di una svolta importante, non tanto per il conflitto in sé per sé, quanto principalmente per la popolazione civile, che realisticamente può vedere solo e soltanto in quel valico l'unica possibilità di fuga, dato che la striscia, come sappiamo, confina oltre che con l'Egitto, con Israele e con il mare. Il problema è che, ovviamente, queste speranze sono con ogni probabilità vane, perché l'apertura del valico significa far entrare aiuti umanitari, ma non la possibilità di far fuggire i civili da Gaza, e questo ha a che fare con una decisione del governo egiziano. L'Egitto, infatti, fin dai bombardamenti di Israele in risposta al primo attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre, aveva deciso di mantenere chiuso il valico, rimandendo come l'ovvio susseguente afflusso di profughi dalla striscia di Gaza rappresentasse un pericolo per la stabilità del paese, riferendosi probabilmente a due aspetti. Il primo è l'accoglienza, dato che il paese faticherebbe a farsi carico in così poco tempo dei molti profughi palestinesi, considerato che la striscia è così piccola che attraversarla tutta a piedi in necessità di una decina di ore, e in un'auto la si fa un poco più di un'ora, e il risultato sarebbe un disastro umanitario, la cui responsabilità finirebbe per cadere sull'Egitto. E peraltro c'è anche da dire che, sinché il disastro umanitario è colpa di Israele, gli Stati Uniti è sicuramente pochissimo, ma anche l'Unione Europea è molto, molto poco incline a essere aggressiva, no? A far sentire la propria voce, a far valere le proprie ragioni, i diritti, eccetera. Ovviamente se il colpevole è invece l'Egitto, allora quelle voci critiche, quel dittino alzato, probabilmente tutti quanti sarebbero più portati a tirarlo su, no? Perché Israele è Israele, l'Egitto è l'Egitto. Insomma, da che mondo è mondo i profughi non li vuole nessuno, ma l'altra questione sembra essere relativa alla sicurezza, perché il timore è che a fuggire, oltre i profughi palestinesi, ci siano anche miliziani appartenenti non solo ad Hamas, ma anche ad altri gruppi armati collocati nella striscia. Problema che l'Egitto non sembra voler avere, vista anche la sua storica instabilità interna, che peraltro è aggravata da una profonda crisi economica, con l'inflazione intorno al 38%. Tutto questo, però, non ha impedito che da giorni fiumane di persone si dirigessero a Rafah, sperando in qualche modo di poter passare dall'altra parte del confine, e parliamo di un valico che dallo scorso luglio è stato attraversato da più di 25.000 persone in media ogni mese, a testimonianza di quanto importante sia questo passaggio. Vista la situazione, comunque, è parso come Biden abbia provato ad utilizzare l'ingresso di questi aiuti umanitari come carta da giocarsi per dimostrare il proprio impegno anche nei confronti dei palestinesi, tanto che, oltre all'apertura del corridoio, gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di 100 milioni di dollari in aiuto ai civili di Gaza e della Cisgiordania, minacciando direttamente Amas sul fatto che, se le milizie tenteranno in qualche modo di deviare gli uti umanitari, gli Stati Uniti smetteranno di aiutare le popolazioni. Che è una minaccia strana, nel senso, Amas cosa gliene frega, vabbè, è una cosa, ma diciamo che è un tentativo, a me sembra un tentativo, di dare anche un bel colpo alla botte dopo che, per ore, si sono dati calci al cerchio. Infatti, nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di ieri, in cui si chiedeva di votare per avviare gli aiuti umanitari nei confronti della popolazione di Gaza, mentre 12 dei 15 membri del Consiglio hanno votato a favore, qualcuno ha deciso di esercitare il suo potere di veto, un potere che, nello specifico lo sapete, possono esercitare solo Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. Questo per impedire l'approvazione di una misura. E se il Regno Unito e Russia, in questo caso, si sono astenute, indovinate un po' chi ha esercitato questo superpotere di veto? Gli Stati Uniti. La spiegazione riguardo alla presa di posizione l'ha data direttamente l'ambasciatrice del paese, Linda Thomas-Greenfield, motivando la scelta con il fatto che nella risoluzione non si faccia riferimento al diritto di autodifesa di Israele, visto che si parlava invece di aiuti umanitari e cessate il fuoco. Cosa che quindi, dal punto di vista degli Stati Uniti, che hanno deciso di giocarsi tutto in questo conflitto, la rendeva inaccettabile. Ed è in tal senso che Biden ha provato quindi a svincolarsi dalle accuse di non voler lavorare per la pace, proprio promettendo degli aiuti. Che però, al netto del fatto che 100 milioni potrebbero essere un pannicello caldo a fronte di quello che sta accadendo, mostra comunque come per una volta gli alleati statunitensi siano un po' reticenti a seguire Washington in questa cosa, proprio perché diversi sono gli interessi strategici in campo, e anche a dirla tutta le posizioni delle varie opinioni pubbliche, che in Europa tendono ad essere molto più fredde nei confronti delle azioni di forze israeliane. Detto questo, gli Stati Uniti hanno deciso di andare sostanzialmente da soli su questa strada qua, e vedremo quali saranno i risultati. Ci aspetta un lungo weekend di tensione, con ogni probabilità, e per quanto mi riguarda non mi è ancora chiarissimo cosa effettivamente l'esercito israeliano debba concretamente fare dentro Gaza, se non occuparla de facto a netterne i territori, ma Biden ha detto che sarebbe un errore questo, quindi staremo a vedere. Non c'è nient'altro da dire che staremo a vedere cosa decidono di fare gli Stati Uniti, perché alla fine è lì. In chiusura oggi torniamo a parlare di un argomento che, lo sapete, mi sta particolarmente a cuore, cioè il gioco del pallone, più comunemente noto come la gara del gol. Non mi stancherò mai di questa gag, capito? Questa gag andrà avanti all'infinito, perché il gioco è bello quando dura almeno 100 puntate, e secondo me 100 puntate sul gioco del pallone ancora non le abbiamo fatte. Ecco, il calcio in questo senso fa da contorno a una vicenda che da qualche giorno sta coprendo le pagine di siti quotidiani, non solo sportivi, e mi riferisco allo scandalo scommesse in cui sono coinvolti al momento alcuni calciatori italiani del campionato italiano e inglese. Storia che ci porta a parlare un pochino dell'intreccio tra gioco del calcio, di nuovo importantissimo, il gioco più bello del mondo, e un problema che in realtà è la ludopatia. Il terremoto sportivo di questi giorni ha portato infatti alla prima sentenza della procura della Federcalcio italiana, che ha squalificato per 12 mesi il calciatore della Juventus, Niccolò Fagioli. Al lato pratico parliamo di 7 mesi effettivi di squalifica dei campi da gioco, quindi non potrà partecipare ad attività, allenamenti, partite, né con la Juventus né con la nazionale, e 5 mesi di prescrizioni alternative, dove il calciatore potrà sì tornare a giocare, ma, ed è qui il primo punto interessante, contestualmente seguire delle terapie per disintossicarsi dalla ludopatia e partecipare a manifestazioni e attività per sensibilizzare le persone sul gioco d'azzardo. Quindi deve per forza diventare una sorta di mascotte, di testimonial di volto, per campagne mirate a sensibilizzare su un problema, che sono andato a guardare ed è un problema enorme. Fagioli, in questo senso, non è solo il primo nome a cui è stata data la squalifica in merito a questo nuovo filone di calcio scommesse, ma è anche quello che, autodenunciandosi e collaborando con l'indagine, ha contribuito a sviluppare il dossier sulle scommesse, dato che al momento la procura sta indagando su altri calciatori che hanno confessato di aver scommesso persino sulla squadra perché avevano giocato in passato. Anche se qui, attenzione, non parliamo di calciatori che giocando abbiano alterato il risultato delle partite, quella sarebbe tutta un'altra questione, ma parliamo più che altro di violazioni del codice di giustizia sportiva che vieta ai tesserati di scommettere sulle partite di calcio. E non so, in realtà non solo, non è proprio questo il punto. In realtà si configurano anche violazioni del codice penale, dato che in Italia non è possibile scommettere su piattaforme che siano esterne ai circuiti monitorati dallo Stato, che quindi sono illegali. Piatforme però utilizzate dallo stesso Fagioli per piazzare le sue scommesse, che è incredibile perché parliamo di un ragazzo giovanissimo, poco più che ventenne, che nella deposizione del procuratore federale parla di ossessione, di gioco compulsivo, di debiti. Sono veramente delle deposizioni toccanti. Mi è dispiaciuto per lui, e non lo conosco, non l'ho mai visto in campo, non so niente di lui, però si capisce quanto sia rimasto sotto da questi debiti e da questa ossessione, da questa dipendenza. Al netto di questa vicenda, infatti, dei nomi di calciatori famosi coinvolti da scoop giornalistici, emerge una questione che nel nostro paese è profondamente radicata, e cioè la dipendenza dal gioco d'azzardo o ludopatia, che ovviamente coinvolge anche persone che hanno molti meno soldi dei calciatori. La quantità di denaro a disposizione è infatti solo un fattore della ludopatia, dato che il costante bisogno di giocare, scommettere, non solo porta a sborsare cifre enormi, ma spesso, quando i soldi sono pochi oppure non ci sono, ci si indebita, mettendo in moto un meccanismo drammatico per cui si cerca in tutti i modi di ripagare il debito della scommessa. E questo, appunto, dipende dalla grandezza delle tasche di chiunque. Certo, un giocatore finirà per spendere decine, centinaia di migliaia di euro, mettendosi comunque in difficoltà, ma questo vale anche per qualcuno che abbia uno stipendio normale e che comunque spenda centinaia di euro al mese, in qualche caso migliaia. La situazione in Italia è complessa e se un terzo della popolazione, secondo i dati più recenti del 2018, ha giocato almeno una volta ad azzardo nell'arco di un intero anno, circa un milione e mezzo di individui nel nostro paese sono giocatori problematici. E non parliamo di nuovo di persone che fanno una puntata e basta, giocano una volta così per giocare. Quelli sono un terzo della popolazione adulta. Questo senza contare il problema nei minori, che ovviamente, non potendo ufficialmente giocare, rientrano in altre statistiche, che però sono disponibili, ve lo lascio in descrizione assieme a tutto il resto. E anche nei minori il problema è gigantesco, è completamente fuori scala. A fronte di questi numeri, quindi, vado a sé che la prima cosa da fare per affrontare il problema sia parlarne, la sensibilizzazione. Per questo, dietro la terribile storia dei calciatori che scommettono, che anche degli aspetti trash che stiamo lasciando da parte, c'è comunque qualcosa di buono. Cioè che il problema emerga, perché per ora l'unica cosa che si è fatta è stato metterci una pezza regolamentando il settore. Nel 2018, ad esempio, l'allora governo Conte 1 aveva inserito nel suo decreto dignità una stretta alle pubblicità sul gioco d'azzardo, che erano fuori controllo, erano tutte strane, si vedevano leoni, si vedevano fiamme, erano molto pervasive. Legge che però, come sapranno gli esperti di gioco di pallone, come il sottoscritto, vengono aggirate negli ultimi anni. Perché i siti di scommesse non fanno più pubblicità loro stessi, ma ad altre realtà parasportive che spesso controllano, che danno pubblicità, dando informazioni, e nel dare informazioni informano contestualmente anche sulle quote nei vari siti scommesse o nei propri siti scommesse. Cioè, perché non ti sto dicendo di venire a giocare nel mio sito, ti sto dicendo che se tu lo volessi magari sapere, quell'informazione è lì, io te la sto dando, è informazione. Eroi? Io credo di sì. Ora, non sto qui a far la morale a nessuno, ovviamente, mi tengo fuori dalla questione. Giusto per dire che in Italia le scommesse sono ormai ben radicate nella nostra società, ma non è sempre stato così. Ora c'è un aumento, c'è un processo di normalizzazione del gioco, che vent'anni era un po' tabù, era una cosa collegata ad ambienti loschi, non è più così. Giusto per contestualizzare la portata di tutto questo, nel 2022 la somma di denaro giocata dalla popolazione italiana è stata di 136 miliardi, molto di più rispetto agli anni scorsi, e senza contare l'anno della pandemia, che è stato particolare, dato che molte delle attività tra cui i gestori di scommesse sono rimasti chiusi. E tutto questo si riferisce alle scommesse legali, ma come abbiamo visto in molti, come appunto Fagioli, si affidano a siti di scommesse illegali, spesso sospettati di essere dei punti che la criminalità organizzata, le mafie, utilizzano per il riciclaggio di denaro. Di nuovo, quello che è scoppiato questi giorni non è altro che un piccolo pezzo di un grande mosaico chiamato ludopatia, e mi rendo conto di essere il primo ad aver scartato inizialmente la notizia, perché attiene al mondo del calcio che non mi interessa. Eppure di queste cose bisogna parlare, anche solo per comunicare alle persone che il problema esiste, che non sono sole, che non sono giudicate per le loro dipendenze, e che soprattutto possono uscirne. È una dipendenza, come tante altre, ed è un problema, bisogna parlarne, però bisogna parlarne bene. Magari ne parliamo anche in futuro. Meglio, approfondiamo. Però questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, non abbiamo più tempo, quindi vi saluto, e niente, ci vediamo domani, ovviamente, mi raccomando, domani c'è la live alle 18.30, sapete che io alla live ci tengo particolarmente, speciale ora che la faccio da casa mia, quindi non devo poi tornare tardissimo la notte, per me alle 8.30 è tardissimo. Ormai io sono entrato in questo, nella mia vita, 8.30, e tipo mezzanotte ci sono i vampiri fuori. E io ero quello che andava in rave un tempo, ma è tutto finito. Grazie mille ai supporter, che supportano il canale. Sto perdendo una grande occasione per fare quel tipo di battuta che tutti fanno, tipo supportano e sopportano. Però ho 39 anni, non 77, quindi mi tengo elastico su questo aspetto, mi tengo... ci vado cauto, ci vado piano con queste battute che fanno molto ridere e rischiano di creare il panico tra le persone che poi ridono, succede un ca... Joker! Joker! Cioè, la giacca è blu, non viola, però non so più di cosa sto parlando, non so, non niente, mi arrivano messaggi di continua. Breaking Italy!